Vai, tira per la bocca! Anche durante la stagione invernale l'escursione al Monte Bianco si può considerare l'ottava meraviglia del mondo. Il fascino delle imponenti vette e dei ghiacciai permette di ammirare il maestoso massiccio in tutto il suo splendore. Dopo ogni nevicata, per garantire la necessaria sicurezza, occorre rendere agibili le stazioni ed il controllo di tutti gli accessori dei sostegni di linea. Interessante la calata sulla bocca. Interessante la calata Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.